Ma quindi, ma quindi, ma quindi, si gioca Ring Fit Adventure, let's go! Siamo arrivati al quarto giorno di sfide contro Graver, di Natale contro Graver, la nostra serie che trovate nelle playlist dove ogni giorno per 7 giorni faremo un video diverso sui canali alternati e ci sfideremo a tutti i giochi che hanno fatto la storia delle nostre sfide. Oggi tocca Ring Fit Adventure, un gioco che avete amato e che soprattutto sul mio canale Viola delle Live, mi chiedete ogni Cristo di Live! Anche a me lo chiedono sempre, però non lo faccio mai perché col cacchio che faccio attività fisica alle 8 di sera. Sì, cioè, raga, va, dopo cena poi! Dopo cena basta, no, già faccio! Cioè, dopo cena mi voglio sedere, avere il culo pesante e dire adesso gioco all'Animal Crossing. Quindi, vi aspetto live! Allora, per questa sfida di oggi facciamo 7 minigiochi. Quindi, alla meglio di 7. Chi ne vince 4 è il vincitore in questo caso. Esatto, devi vincerne almeno la metà più 1, motivo per cui stiamo scegliendo sempre cose dispari da fare. Yes! Sai qual è la cosa peggiore di sto gioco? Dimmi. È che devi, tipo, fare attività fisica anche solo per il menu. Hai lo spazio attorno per giocare? Io tecnicamente no, sicuramente durante la registrazione andrò contro il tavolino sul che ho posato l'albero di Natale e spacco tutto, ma non importa, si fa per il video. Io ho già tanto che ho una casa. Ma poi immaginati i giapponesi, sto gioco creato dai giapponesi in quelle case piccolissime. Ho già nelle case minuscole, po' pochetti. 3, 2, 1, vai. Iniziamo. Ok. Pronti? Via! Vai, 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 vai. Mamma mia, mamma mia. Mi sa che non l'ho mai giocato il tuo in avanzato. Mi sa che non l'ho mai giocato il tuo in avanzato. Oh mio Dio, oh mio Dio, ma come fai a prendere tutti? Come fai a prendere tutti? Non li puoi prendere tutti. Oddio, 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 oddio. Oh, ci sono anche quelli oro. Sì, infatti, ma cosa? Ma cosa? Ma ci sono troppi. Oddio, ma ci sono pure quelli che c'hanno la difesa. Corazzati! Ma non l'ho mai giocato questo qua, questa difficoltà. Non nemmeno io? Durante la modalità storia. No, ho sbagliato. Nice. Che fatica. Sto già facendo fatica anch'io. Oh, 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 oh. Versena speed? Che succede? Oh, 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 oh. Ma cos'è? Mamma mia, che critica. Ma quanti sono? Mamma mia, ma perché? Ma perché così tanti? Basta, basta, basta. Oh, finito. Finito. 12.100. 12.600! Yes! Yes! ah voto ma a anche io ah 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 500 ma dai yes ma da siamo stati clamorosi è stata la nostra prima sfida in avanzato quindi tutto è ancora da decidere non me lo ricordavo così stancante allargare stanca molto più che stringere secondo me un sacco di più e dovevi sempre allargare direi di fare scassa la cassa scassa la cassa dovevi colpire tutte le casse tipo un minigoco di splatoon dell'auto expansion ok ok vado 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 no perché 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 ma è randomica la posizione delle cose er' randomica assolutamente sì quindi se c'è il culo ti va meglio sì ma no ma che cercatura Pronto Quanto fa Pronto Quanto fa avanti ancora Troppo Ok Dai 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 Penso Applausi nice finito nice finito non l'ho fatto bene finito quanto hai fatto 25.600 32.100 non sapevo che l'avevo fatto bene però sicuro di aver fatto male 1 a 1 quanto hai fatto a o s a ho fatto s l'ultima volta facendolo in principiante ho fatto a con 30.000 io la scorsa volta ho fatto in avanzato ho fatto 30.100 quindi a scosolto ho fatto meglio a scosolto ho fatto meglio 227 giorni fa comunque meno tempo dell'ultimo direct che tristezza andava detto lo diciamo ogni episodio di ringfit un altro bello direi di andare su equilibrio precario 3 2 1 premi ok non ha premuto si ha premuto va 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 non sono mai forte l'avanzato neanch'io ok è difficilissimo in avanzato ok vai 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 cammina 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 o no no questo questo mi stanno per cadere bucchi e te lo dico se mi cadono le cuffie rimangono per terra no ma che è difficilissimo ok vai 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 finito ho fatto molto peggio delle altre volte molto peggio io ho fatto un po meglio quanto hai fatto 6.800 7.600 secondo mio due punti a me nice adesso facciamo rilancio del disco è tutto subito avanzato inizia entrare ti aspetterò davanti alla schermata in cui si inizia graver ti sfondo no no già inizio male già inizio male già inizio male già inizio malissimo io già inizio malissimo 1 2 3 4 no mamma mia ho sbagliato miseramente mamma mia dannati i sensori di movimento mi ha iniziato male inizio e sto andando bene ma prima l'inizio l'ho iniziato buonissimo quanto va avanti quanto va avanti troppo troppo sto sbagliando no 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 1 2 1 2 1 2 1 1 1 nice finito ho fatto schifo rifacciamolo non credo aveva fatto bene neanche io quanto hai fatto poco 8.350 9.500 se lo vuoi rifare accetto col cacchio mi prendo il punto e vado a casa non fare ma poi raga ma poi ipotetico match point se tutto va bene randella robot abbatti velocemente robot notando ruotando l'addome promuovere le mazze non sai che mentre giocavo a cosa di prima in qualche modo con il cavo della cuffia ho colpito un tasto della stella tastiera lo spinto e lucida tastiera non sa come sia possibile però è successo non ho ben capito che funziona o no ma ma fidati ma ma che significa no no oddio ti faccio sempre fregare anch'io ti faccio sempre fregare ok 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 ah no mi sono fatto fregare di nuovo ah ah io sto lanciando il capo delle cuffie in giro in un modo assurdo ti dico se senti dei rumori strani nella mia registrazione è perché c'ho il capo delle shoppus che sta piaccendo nella stanza dai 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 чем io non so se face di male non so fare diρη che schifo che non fanno decente ho fatto decente io tipo a aiuto quanto è fatto 8.000 10.800 ho rischiato di spaccare tutti gli spavoli stanno ancora gestando perché il cavo delle cuffie è da un'altra parte la stanza ora l'ho perso quindi siamo 3 a 1 per la sfida che oggi vittoria che oggi vittoria i miei possenti muscoli il mio fisico superiore dimostrati in questa prova di potenza alla barmi ciao anche io ciao domani vedete sul mio canale c'è il prossimo video della sfida ciao ciao ciao